Benvenuti nella contora rassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euroatlantisti. Il capo di stato maggiore tedesco della Bundeswehr dell'esercito federale teutonico ha detto queste parole, come dice il titolo di quest'articolo di Mondiner. Un giorno, quindi molto presto sostanzialmente nel prossimo decennio, come viene fissato più in basso dalle stesse parole dell'alto ufficiale dell'esercito tedesco, la Germania e per implicito anche il resto dell'Unione Europea e dei paesi NATO europei dovrà avviare una guerra difensiva che ricorda un po' l'operazione di pace di decenni fa, varie operazioni di pace italiane ma anche ungheresi, dei vari eserciti NATO per esempio in Nord Africa e in Medio Oriente. Però questa volta contro la Russia direttamente e non tramite una guerra per procura, come succede finanziando e dando armi a Kiev per quasi tutti i paesi della NATO tranne l'Ungheria. Dice il tedesco, non torneremo più ai tempi precedenti, a quel periodo di pace relativa almeno per noi nel vecchio continente, rispetto al 24 febbraio 22, l'inizio di questa fase della guerra in Ucraina, una guerra calda su larga scala nazionale. I tedeschi devono abituarsi a pensare con la mentalità bellica, da guerra ancora il generale capo tedesco Karsten Breuer, è il suo nome dell'uomo che avete visto in foto, capo di Stato Maggiore della Bundeswehr, l'ho detto, a riportarlo anche una fonte ucraina, union.net. Dice lui, nuovo virgolettato, sapremo difenderci sicuramente dalla federazione russa. Però la Bundeswehr da anni, se non da decenni, non ha, riconosce il generale, tutte le attrezzature, soprattutto gli uomini, la quantità di armi, di munizioni, e i numeri di soldati, di fanteria, soprattutto necessari ad una guerra NATO contro Russia diretta. La Germania continua, ricordiamo, anche in questi giorni, a mandare nuovi pacchetti di aiuti militari a Kiev, all'Ucraina, in misura minore, ma come abbiamo visto nell'ultima rassegna stampa, i fondi stanno finendo. C'è un deficit, c'è un bilancio disastroso nelle casse di Berlino, e quindi la coalizione Semafro Ampel Coalizion sta pensando già, come ho ricordato l'altro ieri, di girare parte di 100 miliardi di euro destinati all'ammodernamento, al rafforzamento del, messo male, esercito federale Bundeswehr e destinarli a nuovi pacchetti di aiuto, a Kiev militari, soprattutto finanziari però, finanziari per soppiantare quelli che non arrivano più, non arriveranno da Washington. Vuole far tornare la leva obbligatoria in Germania, chi il ministro, attuale ministro della difesa, Boris Pistorius, lo riporta anche lo Spiegel, Tagesschau e altri giornali. Lo stesso ministro nel 2011, quindi più di un decennio fa, considerava questa una cattiva idea, questa della leva obbligatoria del ritorno, ma già a febbraio 23 aveva chiesto a Scholz di farla tornare. Scholz l'ha fatta subito togliere dal tavolo delle trattative del Consiglio dei Ministri della Cancelleria federale. L'esercito tedesco nel 2031, secondo i piani, avrà accresciuto a 203 mila unità i suoi soldati, ma il contingente attuale neanche riesce a rimpiazzare i 183 mila. Come succede un po' in tutto l'Occidente, dagli Stati Uniti all'Italia, non credo l'Ungheria con la campagna nuova, avviata dal governo Orban. Altro discorso, altro mondo, lo so, un'altra società ancora oggi. La cortina di ferro non è mai caduta in realtà. E la Germania sappiamo che anche in questo è molto spaccata tra ex DDR e la ex Repubblica federale tedesca dell'Ovest. Cinque, otto anni abbiamo, dice Pistorius, per prepararci a rafforzare le nostre difese militari. Per quale minaccia principale? La Russia, ovviamente. Pistorius ha aggiunto la Russia ha cresciuto, anzi la produzione bellica, ha tramutato le proprie economie in un'economia di guerra, con successo, e questo minaccia la sicurezza della Moldavia, della Georgia e delle Repubbliche Baltiche, che se non erro hanno già la leva obbligatoria, così come dal 2017 la Svezia, persino la Svezia in Europa, insieme ad altri paesi. L'Europa dovrebbe, secondo Pistorius, molto presto prepararsi a bilanciare, cioè a sostituire anche gli Stati Uniti negli aiuti, soprattutto finanziari a Kiev, ma anche militari. Quindi Washington, che si concentra sempre di più sullo scenario dell'Indo-Pacifico, Taiwan al centro, anche le Coree, e dall'altra parte il vecchio continente, la guerra in Ucraina, che viene lasciata come spesa all'Unione Europea questa parte dell'Alleanza Nord-Atlantica. Ringrazio Carlo per il contributo mensile a questa controinformazione. Più di 150 cittadini ciechi della Repubblica cieca hanno preso il permesso presidenziale di Pavel a combattere in Ucraina, non come mercenari, ma come soldati della legione internazionale di Zelensky, riconosciuta dalla legge e quindi dal Presidente della Repubblica di Praga. A riferirlo il quotidiano in rete cieco IDNES. Ovviamente, l'ho detto, cittadini, a tutti gli effetti di Praga, dal febbraio 2022 più di 550 richieste ufficiali al presidente, l'allora presidente Milos Zeman, che ha accettato 132 domande, 20 questa volta da Petr Pavel, che è entrato in servizio presidenza della Repubblica marzo scorso, ex capo del contingente in Europa Nato. Va ricordato assolutamente. Infobrix, testata di informazione, una sorta di organo, stampa del gruppo, famosissimo gruppo con dentro Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, adesso dal 1 gennaio anche altri. I politici occidentali si legge si stanno preparando e stanno preparando anche i giornalisti la stampa alla inevitabile sconfitta dell'Ucraina nella guerra contro la Russia. A scriverlo l'editorialista Lucas Leiros è scritto male con la S e non con la Z. Quindi rappresentanti politici, attivisti, giornalisti devono prepararsi, devono preparare il pubblico soprattutto e quindi chi legge chi ascolta le notizie, chi cerca di informarsi che la sconfitta del regime, si legge i testuali parole del regime neonazista ucraino è inevitabile, quindi Zelensky, Schmier e gli altri Esalusni e cercano, cercheranno questi occidentali, i capi occidentali di portare tutta l'attenzione ancora di più sul conflitto israeliano come punto focale di pericolo maggiore per l'Europa e quindi molto più accattivante mediaticamente del conflitto in Ucraina. La causa secondo questo Infobriks, questo giornale è semplicemente la superiorità militare dell'esercito russo rispetto all'Ucraina armata e sostenuta ormai da quasi due anni dall'Occidente quasi tutto l'Occidente. 40 attacchi di gruppo missilistici e di droni russi contro le infrastrutture aeroporti militari ucraini poi depositi di armi e munizioni dell'esercito di Kiev anche una base della legione internazionale di Zelensky e del gruppo Asov molto famoso a riferirlo venerdì il ministro scusate il ministero della difesa russo Igor Konashenko il portavoce di Shoigu nel periodo questi attacchi che vanno dal 9 dicembre al 15 dicembre scorso 97 tentativi di attacco di offensiva ucraina respinti dalle forze russe il fronte più caldo e più terribile per le perdite dell'esercito di Kiev quello di Daniesk con Avdeyevka Marinka e gli altri il 12 dicembre attacco cibernetico contro la più grande rete di internet telefonica ucraina molti accusano la russia neanche sto qui a dirlo guai per 48 ore alla rete a riferirlo anche il ministero della difesa britannico su x twitter la rete Kievstar per quanto riguarda l'Ucraina il più grande fornitore più della metà di sim alla popolazione in Ucraina attuale a riferirlo a riferirla stessa impresa telefonica non ci sono stati poi furti di dati privati dei nostri clienti assicurano terribili disagi anche alle sirene della difesa aerea e ai bancomat ATM di una banca che si chiama Monobank una banca ucraina un attacco di tipo DOS come riferisce il ministero della difesa di Londra uno dei più grandi attacchi cibernetici dall'inizio dell'invasione russa si legge sempre dalla stessa fonte occidentale molto ucrainista tradizionalmente New York Times fonte americana di New York non russa non filo urban eccetera gli ucraini denominano chiamano missione suicida all'offensiva sul fiume di Nieper nella zona di Kherson sulla sponda sinistra dice un soldato o l'ex intervistato dalla stessa New York Times è impossibile metter piede non è la lotta non è per rimanere vivi ma letteralmente una missione suicida non si torna da lì perché quali sono le cause cattiva preparazione dei militari dalla parte responsabilità quindi degli ufficiali ucraini la cattiva logistica dell'esercito ucraino nella zona di Krynky una delle zone più calde la parte meridionale dell'Ucraina del 91 BBC fonte allineata inglese pubblica molti e non pochi mobilitati anche con la forza giovanissimi marinai dell'esercito ucraino della marina neanche sanno nuotare giovani troppo giovani e poco addestrati mandati al fronte di guerra sempre nella zona di Kherson droni russi e l'artiglieria russa non fanno altro che colpire molto facilmente queste unità dell'esercito di Chieva a riferirlo un soldato ucraino sempre alla BBC britannica Putin mentre Putin scherza con la domanda dell'intelligenza artificiale poi il discorso di fine anno con le domande dei russi una domanda dello stesso Putin generato all'intelligenza artificiale potete vedere il video anche diffuso dal Guardian e risponde alla sua stessa voce ho deciso solo una persona c'è al mondo che può mostrarsi avere le mie sembianze avere la mia voce quello sono io e quindi azzittisce anche la propaganda sui molti sosia che il presidente russo avrebbe impiegato negli ultimi anni per difendersi secondo anche il ministero della difesa britannico per citare la fonte di prima quelli che giudicano negativamente criticano mi criticano mi dicono dittatore possono andare al fronte a combattere a spendere quelle stesse energie parole molto dirette del presidente ucraino Zelensky a Fox News emittente filo repubblicana moderata americana al conduttore Brett Bayer non proprio raccontato moltissimo dalla stampa italiana principale e quindi mentre Putin scherza è una posizione sembra di forza Zelensky sempre più in una posizione di debolezza tanto che sentite queste parole che trasudano un po' di crisi nelle autorità politiche militari ucraine per quanto riguarda la certa Olga Stefanyscina cioè vice ministro primo ministro ucraino nel partito di Zelensky è anche responsabile per l'Ucraina l'adesione all'euroatlantismo alla sfera NATO EU l'Unione europea dice lei sarebbe stata pronta nell'ultimo consiglio europeo di 3-4 giorni fa a togliere il diritto di veto all'Ungheria se non avesse se orva non fosse uscito dalla sala del consiglio europeo lo riferisce Ucrainska Pravda e tutti i 26 altri stati membri dell'Unione europea quindi tranne l'Ungheria sono sempre pronti a togliere questo diritto all'Ungheria se si comporta male e viva la democrazia l'Ucraina questa elite politica si dimostra veramente allo stesso livello di quella dell'Unione europea dello stato diritto della von der Leyen questo sicuramente ma non nel senso detto dalla stampa italiana come Corriere RAI SkyTG La7 eccetera eccetera consiglio europeo stesso consiglio europeo all'ultimo momento è stato tolto l'invito a partecipare di persona a Zelenska presidente ucraina sempre a Bruxelles a riferirlo politico.eu perché questo invito avrebbe messo in difficoltà Orbán avrebbe fatto arrabbiare ancora di più il primo ministro ungherese secondo lo stesso giornale allineato europeista della capitale belga e la capitale dell'Unione europea Fonderlai è una cosa che non si dice in Italia ha accolto la vittoria la nomina primo ministro capo del governo in Polonia di Donald Tusk l'europeista del partito popolare e ha dato a lui subito alla Polonia 5 miliardi di euro di benvenuto del fondo Repower EU per l'energia verde eccetera eccetera non ci sono problemi non rappresentano più dei problemi che preoccupano la Commissione europea allo stato di diritto in Polonia la indipendenza dei giudici immediatamente la Polonia è diventata faro della democrazia da democratura che era sotto i governi secondo la Commissione europea le Commissione europea sotto i governi PIS diritto e giustizia Morawiecki e la presidenza che ancora permane di Duda per esempio si arto peter ministro degli esteri ungherese intanto l'Ungheria è pronta a mettere il veto non solo sui 50 miliardi dell'Ucraina ma anche all'ingresso della Bulgaria nella zona nell'area Schengen se la Bulgaria soffia il nuovo governo europeista non blocca ritira nuovi dazi molto più alti sul transito di gas naturale soprattutto russo verso l'Unione europea centrale centro Europa l'Ungheria eccetera a riferirlo sempre ministro degli esteri di Budapest su Facebook una decisione quella di Sofia sarebbe tremenda scandalosa che metterebbe in pericolo la sicurezza energetica di Macedonia del nord Serbia e Ungheria oltre che di Austria e di Slovacchia le regole una decisione contraria completamente alle regole dell'Unione europea secondo si arto prossima settimana potremmo utilizzare il nostro diritto di veto come fatto a Bruxelles l'altro giorno per chiudere sempre dalla Bulgaria la radio pubblica ha censurato l'intervista alla ambasciatrice russa sempre nello stesso paese che si affaccia sul Mar Nero la radio BNR avrebbe cancellato non diffuso l'intervista a Leonora Mitrofanova come denuncia lei stessa l'ambasciatrice su Telegram quanto più la censura è forte assicura la prevede l'ambasciatrice di Mosca tanto più sarà nelle persone comuni ci sarà il bisogno di informarsi su fonti alternative arrivare alla realtà dei fatti che c'è per esempio in Russia al dirà della propaganda occidentale anche del governo europeista nuovo in Bulgaria commento della Zakharova portavoce ministero degli esteri russo Lavrov si può ancora respirare in Bulgaria Bulgaria che non ha problemi con la commissione europea non per quanto riguarda la presidenza più per quanto riguarda il governo nello stato di diritto europeo con la commissione europea von der Leyen tu sei democratico finché sei allineato alla linea centralista di Bruxelles qualcuno parla di impero europeo attrazione franco-tedesca in realtà qualcuno parla soprattutto attrazione democratica americana vi ringrazio per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modia Rorsag